Ciao, sono Nico della Yotsomoto Siamo qui all'ECMA, padione 9, per presentarvi una nuova novità in ambito airbag dell'Alpinestars parliamo del nuovo Techair 3 che ce l'abbiamo in anteprima rispetto agli altri negozi parliamo di un nuovo airbag per utilizzo Citi che è stato studiato dall'Alpinestars che già da anni è presente nel settore airbag a livello mondiale, sia nell'ambito racing che nell'ambito stradale questo qui è un prodotto nuovo entry level che è concepito per un utilizzo quotidiano per una fascia sia touring che scooteristica è presentato un mese fa circa la stampa ce l'abbiamo già qui in pronta consegna per la vendita ad un prezzo di lancio di 500 euro che lo pone come entry level nel mondo degli airbag insieme a questo abbiamo portato qui all'ECMA anche diciamo chiaramente quello che è il nostro mondo dell'abbigliamento quindi partiamo dai giubbotti, tessuto, pelle, alle tute completi gran turismo, stivali e tutto quello che serve per vestire i motociclisti siamo presenti in Campania nelle due sedi di Ariano Irpino e Salerno per info potete contattarci sul sito www.yumoto.it vi aspettiamo www.yumoto.it